Attenzione oggi al maltempo in Lombardia, la danno brutta brutta brutta, ben ritrovati come state, un abbraccio a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi se lo avete ancora fatto, attivate la campanella numerosissimi se amate il Milan e di lasciare un bel like se volete i tre punti domenica sera nonostante tutte queste situazioni incredibili. Devo dirci tante cose e trovo il tutto abbastanza incredibile ma ci sono cose davvero sorprendenti. Voglio partire però da un minutino di intervista di Adli ieri, mi piace sempre anche quando parla, ricordiamo che lui è un calciatore ma anche a cultura, diciamo che sembra uno simoro ma in questo caso non lo è. Ovviamente non sono tutti uguali, lui è uno che ha anche interessi, legge, suona al piano, cose che potrebbero essere anche normali ma nel mondo del calcio un po' meno. Il paragone con Zidane io sono solamente Yassin Adli, Pirro e Zidane sono giocatori fantastici, difficile toccare quel livello, io cerco di fare il mio e di dare il massimo per il Milan, è questo che mi importa. Benassera come un fratello, lo stadio è incredibile, non posso descrivere ciò che ho sentito, che orgoglio essere sul campo e sentire tutti i tifosi, non diventare mai la standing ovation, la mia uscita dal campo. Un sogno, lui dice insomma ho l'anima del tifoso, effettivamente quello che più ha colpito di lui anche quando non giocava, soprattutto quando non giocava, quanto comunque si sentiva dentro il progetto perché aveva assorbito il rosso e nero nel suo DNA e quindi andava a portare avanti questa appartenenza, seppur arrivato insomma da poco o da un altro contesto. Ma veniamo alle note dolenti, l'infortunio di Sportiello. Sportiello. Allora dico subito una cosa, mi sono notato tante cose, ci sono alcune cose davvero incredibili. Innanzitutto analizziamo una piccola parte che è la componente sfortuna, è una parte non è tutto, però pensate che noi quest'anno abbiamo dovuto fare il derby in emergenza e in difesa perché squalificato Tomori il suo sostituto qualche giorno dopo si fa male. Squalifica e infortuni nel primo sostituto che era Calulo. Adesso stessa situazione, squalifica di Menian il suo primo sostituto, Sportiello si fa male. E qui purtroppo devi andare a attingere alle alternative delle alternative, cosa che per il portiere è sempre un po' complicata. Raramente, è capitato, ma raramente si è visto giocare il terzo portiere. Significa che i primi due non li hai, ecco. Fortunatamente poi per Menian è una partita, però una partita importante contro la Juventus, contro cui ricordiamo qualche anno fa abbiamo dovuto giocare con Calabria nel ruolo di centrocampo. Quindi, anche questa volta siamo un po' sfortunati. Dopodiché però non c'è soltanto la sfortuna. Vado a vedere una cosa e vedo Marco Sportiello, anni 31, storico degli infortuni. Quest'anno è il primo problema, un problema al polpaccio. E vedo che lo scorso anno aveva soltanto saltato due partite per influenza. No, problemi diversi. L'anno prima, anche le due partite per influenza, 20-21, gastroenterite una partita. Per vedere un problema fisico, dobbiamo risalire alla 16-17, infiammazione nella spina dorsale. Non so cosa significa la mal di schiena, non lo so. E poi 15-16-13-14, problema fisico non me l'ho specificato, in cui però ha saltato soltanto una gara. Quindi magari, che ne so, affaticamento, piuttosto che... In pratica, se guardiamo, lui non si è mai fatto male. E comunque non parliamo di un 23enne in cui il campione è ridotto, parliamo di un 31enne che gioca a calcio da una vita, non si è mai di fatto fatto male. E almeno da qualche mese si è fatto male, un problema serio al polpaccio, una lesione. E il polpaccio, lo sapete, con Megnano, l'abbiamo capito tutti, è una brutta bestia. Quindi è vero che più vai avanti, più diventi soggetto di infortuni. Però questo infortunio rappresenta un'anomalia evidente. E quindi mi chiedo, vi chiedo, ci chiediamo, responsabilità anche dello staff, punto di domanda, un'altra cosa, un'altra riflessione sorge spontanea. E può non essere poi alla fine un caso. Dalle nostre parti a Milanello ci sono troppi problemi muscolari in generale, ma troppi problemi al polpaccio. Un muscolo che viene troppo bersagliato rispetto alla media altrove, noi tanti col polpaccio. Guardate lo scorso anno, Megnano, ma non solo, anche altri strada facendo, e adesso anche Sportiello. Un'anomalia che forse deve porre qualche riflessione sulla preparazione. Dopodiché, aggiungo un altro aspetto, ragazzi, si fanno male anche altri. Si è fatto male Oshimen, si è fatto male Danilo. Però siamo, da inizio stagione, ancora una volta sulla falsa riga delle altre. In estate, Calabria e Messias. Poi dice, Messias è andato via, sì, ma si è fatto male quando era al Milan. È vero che era soggetto spesso ai fortuni, però Calabria e Messias. Calulu, parlo di muscolari. Krunic, Loftus-Cic. Kier qualche partita l'ha saltata. Teo e Calabria, si diceva, per una botta ricevuta che aveva provocato un edema. Quindi non li mettiamo, ma anche loro hanno saltato qualche partita. Megnano ha saltato un paio di partite. Ciukwezze si è fatto male con la Nigeria. E adesso pure Sportiello. Ciukwezze non lo conto. Capite che è una serie, purtroppo, robusta, corposa. È una lista densa di nomi. E questo, scusate, evidenzia un problema che ci portiamo addietro da troppo tempo. Ci portiamo addietro questo problema che è importantissimo risolvere. Come dico sempre, fino alla noia, finché non lo risolveremo una volta più di tutto questo problema. Il calciomercato è fondamentale, ti aggiunge giocatori. Il tema di fortuni è altrettanto importante perché ti toglie giocatori. E, detto questo, ulteriori anomalie. Sapete quando si è fatto male Calulu? Che, tra l'altro, siamo stati i primi a raccontarlo. Qualcuno ci diceva, ma vi inventate le cose, perseminare il terrore, eccetera, eccetera. E anche lì non era stato comunicato dal Milan. Qualche giorno dopo la nostra anticipazione l'avevano comunicato. Calulu si fa male a Milanello l'8 settembre. Intanto, quando dico a Milanello, mi viene in mente un'altra cosa. Che sono tanti anche quelli che si fanno male durante l'allenamento. Il sportello si fa male durante l'allenamento. Calulu si fa male durante l'allenamento. E, tendenzialmente, i giocatori si fanno male durante le partite. Un po' meno durante l'allenamento. Anche questo dovrebbe far riflettere. Però Calulu, 8 settembre. 10 giorni, poi verrà monitorato quotidianamente. Ragazzi, siamo quasi a un mese e mezzo dall'infortunio di Calulu. È tantissimo. E non parliamo di un trentenne che devi stare lì attento, perché parliamo di un giocatore che è giovane. Ed è fuori da più di 40 giorni. Ora, sta lavorando, ieri ha fatto ancora prima parte in gruppo, seconda no. Quindi non è ancora tecnicamente recuperato. Speriamo oggi che possa fare tutto il gruppo. Però anche qui c'è un'incognita clamorosa. Per risolvere un infortunio, quasi un mese e mezzo. Per un giovane di poco più di 20 anni. Anche qui c'è qualcosa che non va. Forse poi si crea un cortocircuito, perché hai talmente paura, magari, che uno si fa la ricaduta, che lo lasci lì, e prima di metterlo lì dentro in campo, vuoi essere sicuro al 110.000%. Però 40 giorni sono tanti. Anche più di 40 giorni ormai. Quasi un mese e mezzo. Oggi è il 20, si fa male l'8. Un mese e 12 giorni. E non si sa ancora se sarà... Sicuramente non partirà dall'inizio. Magari in panchina. Vediamo oggi. L'allenamento di oggi è molto importante. E vi aggiorneremo. Però tutto questo ci descrive purtroppo una situazione che o viene sottovalutata, o non si riesce a risolvere, che deve porre delle riflessioni anche sul modus operandi, sulla preparazione, allenamenti. E' purtroppo evidente che sia così. Ora che si fa? Si fa che... C'è anche un po' di sfortuna, eh? Perché si poteva fare male in un altro momento. Si fa che Mirante non gioca da due anni e mezzo. Maggio 2021. Ha fatto un minuto del Milan lo scorso anno. Ha giocato di più girù da portiere. che è Mirante. Questo è altrettanto incredibile, no? E' giusto che giochi lui? Oppure? Oppure, ragazzi, Laponava? Che per chi non lo sapesse, figlio d'arte, suo papà giocava nel Milan. 22 gennaio 2004, farà vent'anni a gennaio. 1,89. Giocatore che, insomma, abbiamo conosciuto e apprezzato nella primavera. Sicuramente oggi è più fresco, più reattivo del quarantenne Mirante. È alla mia età Mirante, ragazzi. Ieri ho fatto una battuta dicendo non bisogna fare tirare in porta. Qualcuno si è offeso. È una battuta, però non è che sia tanto lontano la realtà. Cioè, Mirante è stato un buon portiere, ma oggi è un portiere scarsone, a quell'età, 40 anni, abbiamo visto a dicembre in amichevole, aveva fatto una paperona, tant'è che poi abbiamo rimesso stato a Rusano in un momento che era delicato, per disperazione. Non lo so, se ne parla bene di Laponava, altro ragazzo molto serio, non avevo dubbi con la famiglia e conosco il papà, che è stato ospite spesso anche nelle nostre trasmissioni. Io ve la butto lì. O Giroud, sto scherzando ovviamente, o Mirante o Laponava. Chiaramente non ha il talento innato di Donna Rum, che è esordito a 16 anni. La prima non l'aveva fatta benissimo con quella punizione presa sul suo palo con il gol di Berardi, su punizione. Però, saresti più tranquilli con il 19enne buttato nella mischia così, o il Quarantenne, che però non ha più la reattività di un tempo. Eh, eh, bella domanda, me lo dico da solo. Diciamo che da quello che emerge dovrebbe giocare Mirante. Però, una porticina aperta per Nava, in questo momento mi sento di lasciarla. Oggi capiremo qualcosa in più, però, devi capire un po' di che morte morire, no? Magari può essere un'opportunità. Eh, però ragazzi, sono amareggiato, perché comunque da questi particolari ti giochi le partite e ti giochi anche i campionati, eh. È chiaro che non arriviamo bene, perché Loftus-Cheek, Krunic e Calulu non ancora pienamente recuperati. Speriamo oggi che facciano lavoro tutto in gruppo. Poi arriviamo senza Teo, senza Mignan, senza Sportiello e con in porta probabilmente Mirante. Credo che al di là di tutto delle responsabilità ci siano, qualcosa da rivedere ci sia e ho la risata nervosa adesso che mi viene. Non lo so, speriamo bene. E poi se vinci, lo dico, se vinci con Mirante o Nava in porta, ragazzi, ulteriore carica, ulteriore benzina e ulteriore segnale, ora devi vincere. Dici, caspita, quest'anno prossimo tranquilli, c'è Sportiello. Niente, si fa male a Sportiello la prima volta nella sua vita. Se non è incredibile questo, ditemelo voi. Commentate con il vostro punto di vista, ragazzi, provate a vincere anche la maglia di Raffa Leao perché la stiamo per assegnare. è uno degli ultimissimi video, fate autografata, scaricate l'app di numero 10 da questo link, seguite su Instagram mbmagli e portate qualche iscritto al canale YouTube. Nava o Mirante, commentate, scatenatevi e lasciate un like se volete una bella vittoria del Milan. Un saluto.